Paola Caruso sorride anche nella tragedia. Eccola al Museum of Dreamers insieme al figlio Michele di tre anni. L'ex bonus di avanti un altro, dopo aver raccontato in tv il triste momento che sta vivendo, cerca di distrarsi per il bene del bimbo. Il piccolo, dopo una puntura sbagliata in Egitto, ha subito una lesione nervosciatico e cammina grazie a un tutore. La 38enne dovrà affrontare con lui un lungo percorso di riabilitazione, ma si sta facendo forza e cerca di condurre una vita normale proprio per la serenità del piccolo. Grazie!